Buongiorno clan, benvenuti a una nuova giornata. Siamo a venerdì 14 di ottobre e la runa di oggi è Isa. Isa è la runa del ghiaccio, la runa della nonazione. E quest'oggi quello che Isa ci vuole mostrare è il seguente. Dobbiamo tirarci fuori da qualsiasi situazione stiamo vivendo in questo momento e guardarla da fuori come se fossimo osservatori oggettivi. Quindi semplicemente osservando senza giudizi, senza giustificazioni, senza reazioni. Semplicemente renderci conto, semplicemente andare verso dentro e permettere alla nostra essenza di fare il suo lavoro di purificazione in questo momento. Proviamo nella giornata di oggi a fare questo esercizio, quindi a rimanere alcuni minuti durante la giornata completamente immobili e semplicemente permettere alla nostra energia essenziale, alla nostra intuizione di muoversi, alla nostra energia kundalini, questa energia creatrice, di muoversi dentro di noi. E un'altra cosa molto importante è se dovessero sorgere situazioni che vi causano una reazione, un giudizio, una giustificazione, semplicemente fermiamoci un istante e usciamo fuori dal ruolo in cui ci siamo messi. Possiamo utilizzare lo stada della runa che è il seguente. Ci mettiamo in piedi con le gambe aperte all'altezza del nostro bacino, le braccia lungo i fianchi, il bacino è attivo, le gambe sono attive, le spalle sono aperte e rilassate, come se cercassimo di mandarle indietro, però in maniera rilassata. Il collo è rilassato, i muscoli del viso sono rilassati. Semplicemente rimaniamo in questa posizione osservando le sensazioni che passano per il nostro corpo. Quando già siamo stati qualche minuto in questa posizione, possiamo utilizzare il galdrar della runa che è grazie per aver ascoltato la runa di oggi e le energie che ci porta. Ci vediamo domani, ci sentiamo domani con la prossima runa e ricordati, accendi la tua luce.